Cari sostenitori, siamo qui a distribuire 12 macchine da cucire. Come sapete la Christian Life tramite la comunità di Verbagna sostiene un insegnante di cucito. L'anno scorso ha preparato 15 donne e oggi siamo qui per donare a loro una macchina da cucire. Grazie al vostro cuore, non posso dirvi altro che grazie, grazie a Dio che benedica.